O sarebbe come credere, mi consenta Presidente, chiudo il ragionamento, come credere che il Presidente della Camera, Onorevole Giorgio Napolitano, che è stato per molti anni Ministro degli Esteri del Partito Comunista e aveva rapporti con tutte le nomenclature comuniste dall'Est a partire da quella sovietica, non si fosse mai accorto del grande traffico che avveniva sotto di lui, tra i vari rappresentanti e amministratori del Partito Comunista e i Paesi dell'Est, non se ne è mai accorto, cosa non credibile. Grazie a tutti.